per la classifica e questa partita è stata una sorta di allenamento in vista dei appuntamenti futuri della prossima settimana. Sì, tutto vero, non mi piace chiamarlo allenamento perché comunque è uno scontro di a uno contro una squadra che ha giocato una buona pallovolo. Siamo stati molto bravi a spegnere già nel primo set le loro belleità e poi a gestire un po' il risultato che ci consente non solo di aver preso i tre punti ma ci consente anche di risparmiare energie perché visto il periodo credo ci sia bisogno anche di questo. Infatti bisogna ricaricarsi proprio per l'appuntamento di mercoledì e poi di domenica con Trento. Non mi ricordo contro chi giocheremo domenica, mi ricordo bene che mercoledì ci aspetta una partita molto costa in Germania, una squadra ricca di campioni tra l'altro e tanti ex che troveranno tante motivazioni per giocare contro di noi. Una partita che può sicuramente dare una svolta al girone ma non sarà facile andare in Germania a prendersi i tre punti.